apparire o essere? Meglio essere, amici miei, meglio essere, meglio essere se stessi, meglio apparire esattamente come si è, perché per apparire si appare per cinque minuti, si appare per qualche mese, si appare per qualche anno e poi, e poi viene fuori l'essere. Meglio essere, amici miei, essere autentici, veri, l'autenticità paga sempre. Grazie. 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 Grazie.